Beh, quando si racconta qualcosa di lontano dalla realtà, appunto, la paura fa breccia. Però noi dobbiamo raccontare la verità. La verità io vorrei capire nel testo dove sta nel problema. Ci sono tutti i passaggi di tutela, perché oltretutto i singoli accordi devono essere votati dal Parlamento. Le 23 materie sono previste da una Costituzione, che oltretutto ha votato chi oggi raccoglie le firme. E la norma, che non sarebbe nemmeno necessaria, ma la norma a quadro Calderoli, va proprio in tutela dell'interesse di tutto il Paese. Io credo che oggi, da nord a sud, ci siano le capacità delle regioni, su alcune competenze, di migliorare il servizio al cittadino e anche la spesa delle risorse migliorarla. Penso che il mezzogiorno sia all'altezza dell'autonomia differenziata e penso che chi racconta un mezzogiorno diverso non dà dignità al mezzogiorno e racconta qualcosa di falso. Penso che il mezzogiorno abbia grandi possibilità di crescita con l'autonomia differenziata.